finisce un'altra partita avvilente leggiamo ragazzi gli ultimi mega risultati del milan in campionato analizziamo le vittorie che esattamente ragazzi andiamo un attimo parlando sempre di numeri andiamo a prendere i dati alla mano usiamo anche quest'anno romani milan roma come spartiacque abbiamo vinto contro udinese frosinone napoli lazio empoli abbiamo pareggiato con atalanta e polonia e abbiamo perso contro il monza di queste partite ragazzi tutte le vittorie tutte le vittorie di cui le ultime tre vinte per uno a zero con una prestazione terribile io non voglio essere qua per fare il solito maestino per dire le solite cose anche perché oggi ho poco tempo e ho veramente poca voglia di commentare una partita del genere formazione questa volta una cosa che non posso incolpare la formazione se non per il fatto che non capisco perché calabria che oggi festeggia 250 partite con la maglia del milan dimostrazione che veramente tutti possono farcela nella vita è la 250esima partita che noi giochiamo in 10 poteva giocare terzino calulu poteva giocare terzino terracciano poteva giocare terzino cimenez niente deve giocare calabria che in otto minuti ha tirato due cross in tribuna aspetta uno stop e ha fatto due falli questa la 250esima partita del capitano del mila ripeto otto minuti due stop sbagliati due cross sbagliati uno stop sbagliato e due falli inutili andiamo avanti ragazzi perché non non è finita qui solito gioco sterile solito gioco inutile ci salva una ciabattata di pulisic che sbatte addosso all'uperto e inganna il portiere perché se no stasera stasera anzi no stasera oggi pomeriggio perché visto il tempo si può anche già ridire stasera tiravamo fuori la famosissima partita 0 a 0 dell'anno scorso perché il livello ragazzi era quello l'anno scorso nei primi di aprile fu 0 a 0 in una partita orrenda ed eravamo veramente lì lì per ricalcare quella linea oggi e ci siamo veramente andati vicino così del resto ragazzi prestazione io direi insufficiente quasi di tutta la squadra oggi perché c'è una squadra e non parlo dell'altra di milano ma un'altra squadra che orto musso orto musso 1 a 0 di qui 1 a 0 di là 1 a 0 di su 1 a 0 di giù tanto convinti di questo 1 a 0 che stavano lì lì per fare la rimonta a scudetto che poi l'hanno presa nel culo alla prima squadra che hanno incontrato che giocava a pallone e io sinceramente con tutto il bene il mondo non voglio fare quella fine lì non voglio farla ma siccome non sono qua io a decidere il futuro della squadra che tifo purtroppo mi sa che siamo destinati a fare quella fine lì ragazzi siamo veramente destinati cross in tribuna sventole senza senso falli inutili falle difensive assurde la cosa positiva è che oggi abbiamo giocato con la difesa titolare che veramente ragazzi se oggi avessimo preso due o tre gol pure con la difesa titolare veramente io mi sarei arreso mi sarei veramente arreso difesa titolare e nonostante tutto nel finale destro piglia la palla di testa e è andata bene che con tutto rispetto ma si trattava di destro perché se lì ci fosse stato un qualsiasi attaccante della serie a nominatemene qualcuno che volete voi quello non solo poteva prendere la palla di testa e buttarla in porta ma poteva tranquillamente sto palla di petto aggiustarsela e tirare perché quello è ragazzi io ve lo dico adesso io se prossimo uno vedo uno vedo pioli ancora sulla panchina del milan e due vedo una stagione che a livello di gioco non migliora io ragazzi guitto tutto perché per me da tre mesi tre quattro mesi a questa parte stare qua a guardare le partite è una sofferenza è una sofferenza una presa di culo una noia e una rabbia continua che si vinca che si pareggia che si perda è stata una noia e una rabbia pure giovedì nonostante un 4 a 2 contro una squadra che con un po più di cervello ne potremmo fare sei e prenderne zero e invece niente anche giovedì avete dovuto per forza metterci il vostro carico sopra è incredibile io se il prossimo campionato non vedo dei cambiamenti ragazzi io mi dico che non arrivo al panettone non arrivo al panettone partita di oggi veramente incommentabile come è stata incommentabile quella di roma come è stata incommentabile quella di contro la slavia praga come fu incommentabile quella col monza e come fu incommentabile pure quella con l'atalanta che forse tra le tutte quella giocata meglio giocata meglio ed è stato un pareggio di 1 a 1 pensate un po voi ragazzi io non ho niente da aggiungere la partita parla da sé perché sono così inorridito che veramente mi trovo privo di parole e allora le lascio a voi nei commenti ci vediamo per la live reaction domattina ma veramente io non ho più parole grazie